Fattore veneziani per dimenticare l'uscida. Non c'è molto tempo a disposizione per le protagoniste del girone C di serie C Pugliesi e Lucane compresse per ragionare sulle gare di domenica scorsa. Anzi, non ce n'è proprio. Si gioca già oggi e per il Monopoli questa sera a partire dalle ore 20 e 30 c'è l'abbinamento casalingo contro l'avellino in crocio, inutile nasconderlo, di grande fascino e carico di significati. Da una parte c'è la voglia di riscatto dei biancoverdi di Giuseppe La Terza dopo la sconfitta di Crotone. Dall'altra c'è la voglia degli irpini di Roberto Taurino di archiviare un avvio di stagione in affanno. Un solo punto conquistato, quello interno di domenica scorsa contro la Gervison e zero gol messi a segno. Non ha fatto punti, sin qui il Taranto che lunedì ha già chiuso il rapporto con il tecnico Nello Di Costanzo e il direttore sportivo Nicola Dionisio. Scelto come nuovo timoniere Eziolino Capuano che torna così allo Iacovone a distanza di ben 21 anni dall'ultima volta. L'esordio in panchina però sarà in trasferta stasera alle ore 21 sul campo di una Turris che ha collezionato 4 punti su 6. In contemporanea con gli Ionici scende in campo anche il Potenza, reduce dai pareggi contro Fidelisandria e Monterosi. I Lucani giocano in trasferta lo scontro diretto con la matricola Gervison. Domani invece si completa il programma del terzo turno con Foggia, Virtus Francavilla, Alo Zaccheria e Giuliano Picerno fischio d'inizio in entrambi i casi alle ore 21.